Parcheggio ampio, sconti più confortevoli, offerta a 360 gradi. Queste le principali motivazioni che spingono gli utenti a frequentare più centri commerciali che il centro storico e lì fare gli acquisti, ma l'argomento è stato oggetto della nostra raccolta di opinioni. Compro qua perché vengo sempre qua, perché ci sono dei sconti buoni, e i soldini me li ho guadambiati a Sulmona, perché ho lavorato a Sulmona, e li spendo qui. Vengo al centro storico perché è abbastanza agguerito, ha vari prodotti a livello accessibile. Siccome oggi siamo in una situazione critica in tutti i sensi, avere uno sconto maggiore di quello di norma che si trova in supermercato andando fuori dalla regione, è meglio venire qui. Perché c'è il parcheggio, perché ci sono tutti i comfort, e trovo tutto quello che cerco. Io vengo qua perché innanzitutto fuori fa freddo e piove, e quindi qua in attesa che uno va a cenare passiamo un po' di tempo qua. Perché forse è una questione di immagine, perché l'immagine del centro commerciale ha una situazione a 360 gradi, uno può acquistare, non può acquistare, passa il tempo, e quindi il centro commerciale oggi sono di moda.